Le cronache di queste ore continuano a restituirci immagini di sbarchi di migranti sulle coste italiane e del progressivo aumento di coloro che devono essere accolti nelle nostre regioni. In Toscana il loro numero supera i 12.000 e ci si interroga su come affrontare l'emergenza, l'accoglienza diffusa come modello seguito finora pare non essere più sufficiente ad arginare un fenomeno ancora troppo italiano e poco europeo. Le soluzioni ci sono, manca la volontà politica dell'Europa, ha detto l'eurodeputata del Partito Democratico, se Silkyange, in occasione della premiazione del Cittadino Europeo 2016 a Villa Salviati. Le proposte ci sono, le soluzioni sono sul tavolo, quello che manca è proprio la volontà politica. Io credo che da sottolineare la mancanza di solidarietà fra i diversi stati membri, questa purtroppo ha un impatto anche sul territorio, perché questa mancanza di solidarietà ora la vediamo anche sui territori, però le politiche europee diventano fondamentali proprio per far uscire il continente da questa impasse politica insomma in cui si trova e cercando di dare, di applicare queste proposte che sono state già indicate al Parlamento. Tra i premiati anche Nawal Sufi, giovane donna di origine marocchine, diventata un punto di riferimento per migliaia di migranti, in particolare siriani, che la chiamano al telefono cellulare dai barconi in difficoltà lanciandole il proprio SOS. Lei raccoglie le coordinate e le comunica alla guardia costiera che si attiva per salvarli.